Alice Salvatore, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, già candidata alla presidenza della regione contro Giovanni Totti nel 2015, sarà di nuovo in corsa per la presidenza alle prossime elezioni regionali. La Salvatore ha infatti vinto la sfida via internet con Silvia Malivindi, ex consigliere comunale di Ventimiglia e già candidata pentastellata alle elezioni europee. Nel ballottaggio fra le due, sulla ormai nota piattaforma Rousseau, la Salvatore ha ottenuto 541 voti da parte degli iscritti e sostenitori del Movimento 5 Stelle, mentre la Malivindi si è fermata a 391 voti. Alice Salvatore è attivista grillina dal 2012 e fino a oggi si è sempre schierata con la parte del Movimento, contraria all'alleanza con il Partito Democratico per le elezioni regionali. Ma se a livello nazionale venissero prese decisioni diverse, Alice Salvatore potrebbe dover lasciare il posto di candidato presidente a un esponente del PD. Appresa la notizia della sua candidatura, la Salvatore ha così commentato Un grazie a tutto il Movimento 5 Stelle per la fiducia e complimenti ai candidati che hanno partecipato, ora tutti uniti per salvare la Liguria.